Lausino, la società che gestisce il servizio idrico integrato di Cava dei Tirreni, nelle scorse ore ha informato l'utenza che a causa della necessità di eseguire un intervento di manutenzione presso la centrale di sollevamento Cernicchiara, è prevista l'interruzione idrica in varie zone della città per martedì 17 novembre. L'intervento che sarà eseguito dalla società Salerno Sistemi avrà inizio dalle ore 7 alle ore 21 del giorno 17 e comporterà la sospensione idrica dell'acquedotto costiera amalfitana e la diramazione per serbatoio Pietrasanta di Cava dei Tirreni a partire dalle ore 7 dello stesso giorno e terminerà, salvo imprevisti, alle ore 6 del giorno successivo per le seguenti zone. Cesinola, San Cesario, Castagneto, Casa Davide, Casa Costa e Vetranto, mentre in costiera amalfitana le zone coinvolte da interruzioni o cali idrici saranno Conca dei Marini, Positano, Praiano, Ravello e Vietri sul mare. Inoltre, sempre il giorno 17, anche altre numerose zone della città metelliana saranno interessate dalla sospensione idrica a partire dalle ore 18, che terminerà, salvo imprevisti, alle ore 6 del giorno successivo. L'elenco completo delle aree coinvolte è consultabile sul sito internet dell'ausino. Al fine di evitare il più possibile disagio ai cittadini, la società ha comunicato tempestivamente la notizia, specificando inoltre che sarà profuso il massimo impegno per ripristinare in breve tempo il servizio.